Non c'è una particolare sorpresa, è una prassi abbastanza abituale, comunque è stata fissata al 7 novembre, quindi tra poche settimane la discussione di merito sulla sospensiva, non so se accoglie o no davvero la sospensiva. Noi ci presenteremo come abbiamo fatto col TAR con la documentazione, cosa che non abbiamo potuto mostrare nell'udienza precedente perché il Consiglio di Stato ha sentenziato, ha emesso questa ordinanza in audita a altera parte, quindi senza ascoltare o considerare le ragioni della regione Abruzzo. Il 7 ci sarà questo confronto e io credo che come ha fatto il TAR anche il Consiglio di Stato verificherà la correttezza della procedura adottata. Questa pratica che scandalizza tanto in Abruzzo si fa in tutto il mondo. Io vorrei capire perché le grandi organizzazioni nazionali di tutela non hanno mai detto una parola e mai fatto neanche un grammo della campagna fatta in Abruzzo, in Toscana, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Liguria, cioè in posti dove la caccia al cervo viene fatta normalmente, cioè nel calendario faunistico penatore non c'è bisogno di selezionare, di fare gli avvisi come stanno facendo gli ATC, anzi stanno in ritardo, per cui comunque sentenza o non ordinanza del Consiglio di Stato non sarebbe iniziata la caccia in questi giorni perché si sta ancora facendo tutto il percorso di formazione dei selettori e di assegnazione delle quantità per verificare appunto quanti sono quelli che intendono cacciarli perché noi facciamo solo il minimo indispensabile, preleviamo una quantità di cervi che è inferiore del 5% alla quantità censita in Abruzzo. Ripeto che in tutto il resto e dovunque nel mondo esistano cervi questa specie viene cacciata e in molti casi cacciata liberamente e senza limitazioni. Penso che lo scandalismo, che sia la propaganda e la mistificazione che si sta facendo in Abruzzo abbia evidentemente qualche finalità politica più che andare nel merito della questione perché tutti quelli che hanno competenze faunisti, biologi, zologi, veterinari, dirigenti dei parchi che sono stati auditi nelle commissioni hanno tutti, tutti, nessuno escluso, tranne le associazioni animaliste tranne le associazioni animaliste e tutti gli altri, non parlo dei cacciatori o degli agricoltori che sono la controparte, ma parlo degli esperti, dei tecnici, degli scienziati ne sono stati ascoltati molti, almeno una dozzina e tutti ci hanno detto questa è la pratica corretta per gestire le specie selvatiche, la fauna selvatica in un territorio.